Per tutti voi ha chiesto un allenamento brucia grassi e non c'è niente meglio di Total Body Jump che io farò qui con Giuliano e con Roberta e con questo, un elastico meraviglioso. Chi avrebbe mai pensato che un pezzo di plastica potrebbe letteralmente plasmare il vostro corpo? Allora andiamo subito sul nostro primo movimento che si chiama Jumping Jack doppio e apriamo e chiudiamo. Ok, Total Body Jump come funziona? Sono fatti circuiti, allora sono semplici movimenti che noi dobbiamo ripetere per un tempo specifico e per questo allenamento noi ne faremo 20 secondi per esercizio, infatti ci mancano 7 secondi, ok? E tiri e poi dopo andiamo a fare il nostro prossimo movimento che sarà bambino viziato. Ancora 4, 3, 2 e via, rilassatevi, giù andiamo bambino viziato. 20 secondi, spingo giù, spingo giù. Total Body Jump è un lavoro metabolico, metabolico vuol dire che aumenta il vostro metabolismo, di conseguenza aumenta anche il numero di calorie che voi state bruciando. Bello, no? Così c'hai il lavoro metabolico con il trampolino, di conseguenza avrete più risultato in meno tempo. Spingi ancora, spingi ancora, spingi ancora. Bravi ancora, 4, 3, 2 e relax. Già sentite tutti i movimenti che sta funzionando sul vostro sistema bruciagrassi. Scendiamo giù, andiamo a fare addominali, si chiamano 100, per noi stendo le gambe, solo le braccia si muovono, gli addominali sono tesi e cominciamo. 20 secondi, spingo verso basso. Ok? Tira dentro la pancia, tira dentro la pancia, ancora, ancora, tira, tira, continui, continui. Ricordate che non dovete saltare in alto sul trampolino, è sempre una spinta verso basso. Ancora, 4, 3, 2, 1, relax. Ok, abbiamo quasi finito con il primo circuito, prendiamo il nostro elastico, leghiamo le caviglie e qui è molto importante che le legate le vostre caviglie sopra il trampolino. Ok? Non le fate a terra per poi salire. Piano piano saliamo. Ok? E qui dovremo fare sci di fondo. Ok? Sci di fondo e quando le mie gambe vanno avanti e indietro. Ok? 20 secondi, cominciamo. Piccolo passo, piccolo passaggio. Ok, ricordate qui, è molto importante che controllate voi il movimento dell'elastico e non viceversa. Non permettete con l'elastico a tirarti le gambe perché tu sei in controllo, non l'elastico. Ancora, continui. Pompare con le gambe, così vuol dire pompare anche il ritorno venoso e l'empatica per allenare tutto il corpo e aumentare anche il vostro metabolismo. Grazie a tolta body jump e il trampolino. Ancora, 3 secondi. 3, 2, 1, relax tutti quanti. Quindi scendiamo giù, aggrappatevi bene sul trampolino, sempre i movimenti piano, piano, piano perché vuoi sempre tanto sicurezza. Prendiamo il nostro altro elastico, si passa indietro la schiena, ok? A questo punto io comincio a fare un piccolo scarico con le gambe e spingo avanti con le braccia per i petturali, ok? Ora 20 secondi, tira, tira, tira. Allora se tu ti senti ancora più forte e vuoi fare un allenamento più grande, scarica più fortemente con le gambe. Ma per tutti coloro che sono la prima volta con il trampolino, tranquilli, 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 tranquilli. Non dovete fare i movimenti troppo balistici perché comunque il trampolino sta lavorando per voi. Ancora, 4, 3, 2, relax, bravissimi. Ok, primo circuito è partito, ripartiamo con il primo movimento, ti ricordate che cos'è? È un jumping jack doppio con le braccia di fronte sempre per le nostre braccia. E andiamo, doppio, sempre 20 secondi. Ancora, apro e chiudo, e apro e chiudo. 13 secondi ancora, continui, ce la fai, abdominale tesi, pensate quanto state lavorando. Ci manca 5 secondi, dopodiché andiamo a un altro movimento. Ancora, 3, 2, 1, relax, ok? Scendi giù, bambino viziato, siamo pronti? 20 secondi, tira, 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 bravi, 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 ce l'ho fatta, dai. Spingi, spingi, spingi. Continui, 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 bravi, bravi, bravi. State lavorando bene, bene, bene. Ok, continui, poi dopo dobbiamo ripassare i nostri abdominali. Ci mancano 8 secondi, 8 secondi. Un allenamento metabolico. Metabolico vuol dire aumenta il metabolismo. E quando aumentiamo il metabolismo andiamo a bruciare più calorie. Basta, scendiamo giù per fare il nostro 100. Scendiamo giù per lavorare l'addome. Vado in estensione, allungo le braccia. Le spalle sono abbassate e comincio a vibrare. Ok, saltare. Ancora, 20 secondi da qua. Tiro. Dominali Taisy. Ancora. Joseph Pilates, proprio Pilates, chi l'ha sentito, ha inventato il 100. E lui si muoveva le braccia per creare una compressione interna alla pancia. Invece con il trampolino noi lo possiamo fare 5 volte tanto. Di conseguenza, di nuovo vi parlo di la panacea del benessere. E così, risultati garantiti. Ancora. 4, 3, 2, 1. Relax. Scendiamo. Ricuperiamo il nostro elastico. Ricordate dove metto l'elastico quando sono sopra il trampolino e non sotto. Torno le caviglie. Dolcemente saliamo. Ok? Dolcemente saliamo. E sulla mia via, sci di fondo. Siamo pronti? Go. 20 secondi. Grandi sorrisi. Perché quando fai qualche cosa per te, il movimento parla proprio a te stesso. Non parla proprio al tuo corpo. Dici, guarda, sto facendo qualcosa per me. Mi voglio bene. E di conseguenza, il sorriso è garantito. Il tuo fisico comincia a dimagrire, ma non soltanto per una questione metabolica. Perché ti accetti di più. E quando ti accetti di più, mangi meglio. E quando mangi meglio, che cosa succede? Tutto si migliora. Infatti, è una cosa bellissima. Il movimento, quella che può fare al tuo corpo. Io ho 45 anni quest'anno e non mi sono mai sentita così in pace e così bella con me stessa. Perché finalmente ho trovato il mio equilibrio. E' benessere con Gila anche questo. Trovare l'equilibrio con se stessi attraverso il movimento. Ok. Relax. Con dolcezza. Sfiliamo l'elastico sempre. Sfiliamo, sfiliamo. E andiamo a recuperare il nostro altro elastico per tenere in bellezza con il nostro scarico per i pettorali. Ok. Scarico è lungo. Torno indietro. Due. Torno indietro. Ancora. Tira. Tira. Ancora. Tiro. E torno indietro. Dai. State facendo un allenamento pazzesco, ragazzi. Ancora. Tira, 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 tira. Otto. Tira. Sette. Ancora. Sei. Cinque. Continui. Quattro. Tre. Ancora. Due. E uno. Ok. Relax. Finiamo con uno scatto. Proprio uno scatto che a noi ci piace del Cold Sport. Giusto, Giulia? Ci piace tantissimo scatto. Un piccolo corsa. Vai. Spingi, spingi, spingi. Dai. Piccolo corsa. Piccolo corsa. Ce la fate, ce la fate. Abbiamo quasi finito. Dovete farne soltanto un altro otto secondi di corsa. Altro otto secondi. Dai, siamo in quattro. Ancora tre. Ancora due. E basta. Un altro. Un altro. Un altro.